Non c'è dubbio che, per aumentare la vendita di veicoli elettrici in Italia, sia necessaria aumentare la distribuzione di colonine di ricarica, accessibili agli automobilisti. Nissan, da anni all'avanguardia nel settore elettrico automotive, ha pensato di stringere una collaborazione con Ikea, azienda specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e oggettistica per la casa. Questo rapporto è iniziato con l'installazione di una colonina di ricarica rapida a corrente continua nel centro commerciale Ikea di Padova, dove i clienti, possessori di veicoli elettrici, mentre si fermano per gli acquisti, possono ricaricare i propri mezzi elettrici. Noi di Nissan, come diciamo spesso, non ci poniamo solamente come produttori di autoveicoli e di veicoli commerciali, ma vogliamo essere i propri promotori del concetto di mobilità elettrica. Le infrastrutture di ricarica rappresentano sicuramente un elemento centrale in questo progetto di sviluppo. L'infrastruttura di oggi, inaugurata presso Ikea, rappresenta proprio uno degli assi fondamentali per noi. Stiamo sviluppando la diffusione delle ricariche veloci sia attraverso la presenza sulle nostre reti di concessionaria, quindi per fare in modo che dove esiste la presenza Nissan sia associata a quanto più possibile una ricarica veloce, sia iniziando a sviluppare dei veri e propri corridoi della mobilità e quindi attraverso la presenza o sull'autostrade o in posizioni strategiche, permettano quindi spostamenti di medio cabotaggio. Un altro asse è quello di installare le colonie dove effettivamente abbiamo dei business case di successo in opera, come ad esempio nel lab di Fiumicino nel 3570, quindi per il progetto taxi che stiamo operando su Roma. Ikea rappresenta quindi il quarto asse importante che d'oggi vogliamo sviluppare e quindi posizionare la colonina in luoghi di aggregazione, in bacini chiaramente urbani importanti e fare in modo che la colonina stessa possa essere, diciamo da un lato, un elemento di attrazione per l'imprenditore, quindi il centro commerciale, la grande distribuzione, il supermercato, l'ipermercato e dall'altra vi dice sia invece l'occasione per i clienti grandi e urbane di avere la possibilità di ricaricare comodamente e facilmente il loro veicolo Nissan. Quella di Ikea a Padova è la quattordicesima colonina di ricarica rapida installata da Nissan sul territorio nazionale. In solo mezz'ora un veicolo elettrico può essere ricaricato attaccandolo ad un'anità CHA-DEMO, nome che deriva dalla contrazione dei termini CHARGE de MOV, che tradotto significa una carica per muoversi. Tale colonina fornisce 50 kW di corrente continua in alta tensione attraverso un connettore speciale sicuro, capace di sostenere fino a 100 kW. Quella di Padova potrebbe essere la prima di una serie di colonine installate negli store Ikea.